Ciao a tutti, non sottovalutarti mai. Prima di affrontare questo tema iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, abbonandoti potrai partecipare ad apposite live mirate dove darò delle risposte precise alle tue domande. E veniamo al dunque, non devi mai e poi mai sottovalutarti. Nel momento in cui ti sottovaluti entri in uno stato veramente nefasto, uno stato veramente negativo. Dobbiamo imparare a non sottovalutarci, dobbiamo imparare a sviluppare la fiducia e la sicurezza in noi stessi. È un processo di apprendimento che prosegue in tutta la vita. Dobbiamo imparare ad acquisire un senso di sicurezza, un senso in noi stessi, un senso di valore, un senso di competenza, un senso di resilienza che ci aiuta ad affrontare le difficoltà, le difficoltà relazionali, ma sviluppare fiducia in se stessi, anche fiducia negli altri e fiducia nell'universo è quello che dobbiamo imparare a fare. Per aiutarci a incrementare, a migliorare il nostro senso di fiducia in noi stessi, dobbiamo renderci conto che spesso perdiamo il potere, ci sottovalutiamo a causa delle critiche degli altri. Quindi dobbiamo imparare a rafforzare la nostra autostima. I rapporti interpersonali hanno la nostra importanza, diciamo, nell'evoluzione del cervello sociale e diciamo dobbiamo imparare a gestire le relazioni con gli altri, ma non dobbiamo dipendere dagli altri. Questa è la differenza. Il nostro potere è il potere di interdipendenza, il potere di interazione, il potere di interagire. Dobbiamo far crescere questo potere ma senza dipendere dagli altri. Sviluppare empatia non vuol dire andare a dipendere dalle altre persone. Sviluppare empatia vuol dire imparare a sviluppare, diciamo, la capacità di conoscere gli altri, non dipendere dagli altri. Noi dobbiamo interagire. La base della sicurezza in se stessi è la fiducia, anche la fiducia nella capacità di interazione che noi abbiamo, quindi la capacità, la fiducia nel poter vivere esperienze positive con gli altri. Dobbiamo cercare di sviluppare, diciamo, un senso tra virgolette di attaccamento sicuro, cioè l'attaccamento sicuro che cos'è? È io interagisco con gli altri ma non ne sono dipendente, quindi non vuol dire essere isolati dagli altri, ma non essere dipendenti da quello che gli altri di fatto ci possono dare. Dobbiamo renderci conto che abbiamo la possibilità di sviluppare, diciamo, delle esperienze positive negative in funzione di come noi andiamo a pensare alla nostra mente. Le esperienze nel presente potranno non compensare tutto quello che ci è mancato in passato, ma diciamo noi possiamo sviluppare delle altre situazioni. Quindi dobbiamo prestare attenzione ai piccoli episodi della nostra vita, agli episodi di affetto, di amore, che possiamo andare a vivere perché ogni giorno qualcuno li vivrà, ma soltanto se li impariamo a sviluppare, impariamo a rendercene conto, potremmo farli diventare nostri. Come la capacità di essere acuditi? Non è che dobbiamo essere acuditi da una persona specifica, è l'universo che siamo noi stessi, è la fiducia in noi stessi, è la culla nella quale possiamo vivere bene una situazione. Ecco, tutti questi sono, è tutto quello che ci permette, diciamo, di stare bene. Non dobbiamo, diciamo, lasciarci andare alle sofferenze, soprattutto quando non ci sono. Quindi dobbiamo renderci conto che la vera forza sta dentro di noi, dobbiamo imparare semplicemente a svilupparla. Dobbiamo tenere testa a quella parte interiore dentro di noi, a quella voce critica che spesso si abbatte su di noi. Ecco, quindi possiamo utilizzare la meditazione, per questo la meditazione è uno strumento utile che è il mindfulness, concentrarci sul tempo presente, ci dà sicuramente delle situazioni veramente, veramente importanti. E quindi respingiamo le critiche espresse da se stessi verso noi stessi e dobbiamo renderci conto che soltanto in questo modo possiamo essere felici. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto metti un like e iscriviti al canale. Ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, scegliendo di farmi delle domande in apposite live, alle quali darò delle risposte precise. Ciao a tutti!